Benvenuti alla nostra rubrica A domanda risponde. Oggi tratteremo un tema particolarmente di attualità, la vaccinazione del personale scolastico. I docenti, i dirigenti scolastici e il personale ATA, considerati infragili, possono richiedere un vaccino diverso da quello AstraZeneca? La risposta è affermativa, sì. Infatti c'è una nota del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 specifica che il vaccino AstraZeneca va somministrato al personale scolastico dai 18 fino ai 55 anni, poi è stato esteso pure fino a 65 anni, in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all'infezione Covid-19. Per cui se le patologie dell'operatore scolastico che deve vaccinarsi sono tali da aumentare i rischi clinici, allora è prevista la somministrazione di altro vaccino, per esempio il vaccino Pfizer. Andiamo alla seconda domanda. Il docente chiamato a vaccinarsi deve firmare il consenso alla somministrazione sia al momento della prima dose che a quello della seconda dose di richiamo? No, basta solamente firmare il consenso della prima dose. Infatti il docente dà il suo consenso una sola volta per tutto l'intero ciclo vaccinale. Con la nota del 26 gennaio 2021 del gruppo di lavoro dell'osservatorio Buone Pratiche sulla sicurezza nella sanità si rappresenta che in merito al consenso informato vaccinazione anti-Covid-19 la manifestazione del consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose è valida per tutto il ciclo vaccinale, comprensivo di prima e seconda dose. Non è pertanto necessario compilare nuovamente il modulo di consenso all'atto della seconda dose di vaccinazione. Andiamo alla terza domanda. Quale permesso bisogna richiedere a scuola per consentire al docente o al personale ATA di andare a vaccinarsi? Se il docente o il personale ATA è di ruolo, è conveniente richiedere uno dei giorni di permesso retribuiti per motivi personali, quelli ai sensi dell'articolo 15,2 del contratto collettivo nazionale scuola. Per il personale ATA è possibile prendere in considerazione, proprio ai sensi dell'articolo 33,1 del contratto collettivo nazionale scuola 16-18, cioè l'ultimo, un permesso specifico per prestazioni mediche specialistiche ed esami diagnostici, fruibili su base giornaliera o oraria. Se invece si tratta di personale precario, cioè docenti o personale ATA ma precario, allora è meglio soffrire di una giornata di malattia per prestazione medica specialistica. Abbiamo terminato anche oggi la nostra rubrica domanda risponde, seguiteci nei nostri canali social Facebook e soprattutto del canale YouTube. Un saluto a tutti quanti. Grazie a tutti.